Mi chiamo Matteo Scorzolini, vengo da Orte, un piccolo paese in provincia di Viterbo e ho 23 anni. Lavoro già nel settore della ristorazione e ho capito che era importante migliorarsi e per farlo c'era bisogno di iscriversi ad una scuola di formazione. Attraverso il passaparola e il dialogo con degli amici che l'avevano già frequentata, sul loro consiglio, mi sono iscritto e mi sono trovato molto bene. Quello che è fondamentale all'interno di una scuola sono ad esempio le attrezzature e i laboratori all'interno del corso professionale di cuoco, che è la Chef Academy, ci sono tutte queste cose, ottimi laboratori, ottime attrezzature e soprattutto ottimi docenti con cui ci si può confrontare, relazionarsi e chiedere informazioni. Una parte molto importante anche del corso è la possibilità di effettuare degli stagio, sia in strutture stellate che non, ma comunque valide. Consiglio la Chef Academy perché è stata una palestra nella quale allenarmi, migliorarmi e soprattutto poter diventare un domani un professionista della cucina.